Buonasera Corzegno, oggi sei a 1, una gran vittoria e ti sei sbloccato finalmente. Cosa ti senti di dire? Ma niente, siamo una squadra in crescita, siamo una squadra giovane, sappiamo che abbiamo ancora dei margini di miglioramento, stiamo lavorando, i risultati sicuramente aiutano. Ecco, il mister si è lamentato un pelo per la prestazione non proprio eccellente, nonostante l'ottimo risultato. Condividi? Sì, no, forse il primo tempo sì, siamo scesi in campo, sbagliavamo un attimino le scelte, cercavamo le giocate difficili, invece dobbiamo capire che per crescere bisogna giocare semplice, fare le cose facili e poi miglioreremo piano piano. Ecco, in che modo avevate preparato la gara? Ma no, ogni gara prepariamo allo stesso modo, poi soprattutto quando dobbiamo giocare qui in casa sappiamo che allo stadio ci teniamo a far bene, quindi sappiamo che tutte le squadre quando vengono qui giocano contro il Cuneo in uno stadio, dobbiamo alzare il livello di attenzione, di agonismo, perché comunque per gli altri spesso sarà una finale giocare qui allo stadio. Grazie.